New Team contro Real Lions 1-0 per il New Team Esposito, adesso porta il pallone, poi serve il compagno di squadra in difesa che cerca il passaggio lungo, la ricerca dell'attaccante, l'anticipato poi ancora Esposito, una serie di impalli però a centrocampo favoriscono infine i New Lions no, i Lions, insomma, che vedono oggi la presenza di Fabio Montanari tra i pali adesso ancora una palla alzata in avanti, l'anticipato bene l'attaccante poi Marrone, Marrone, costretto a tornare sui propri passi e infine la palla finisce in calcio d'angolo palla messa lateralmente, poi il tiro col piattone finisce di gran lungo al lato palla ancora in avanti, Esposito, sbaglia lo stop, quindi palla laterale ciao, ciao Scala, quale siamo? o tre o quattro e z ok scala come siamo? eh... New Team contro Lion, non mi ricordo cosa New Lion, no, quelli vecchi Lion, con chi abbiamo giocato si adesso ancora una sortita offensiva fine il pallone finisce in calcio palla ancora alta buono il passaggio adesso Zillo Stoop però costringe l'attaccante a tornare sui propri passi ancora palla al centro Edil Ghul e quindi porta al Parigi su questo diamo qui il nostro collegamento